Fiori all'occhiello delle vostre attività, Rapolla Soccer Academy, siamo allo stadio cefalo di Barile, questa simbiosi tra Barile, Rapolla e tutto il vulture sta producendo i suoi frutti. Come sta andando? Certo, abbastanza bene, qui a Barile ci hanno accolto veramente bene, il sindaco, l'amministrazione sono stati abbastanza intuitivi nel capire che questa soluzione fosse positiva per i loro bambini e quindi stiamo lavorando bene, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che questo progetto vada avanti. Quindi sta andando benissimo perché tutte le categorie stiamo raccogliendo frutti positivi, quindi andiamo avanti. Vivaio in prospettiva futura, ottime iniziative per il prossimo futuro per costruire tra virgolette i campioni in casa? Certo, la squadra deve essere tutta locale, quindi bisogna fare sacrifici nel settore giovanile che è importante, bisogna lavorare sotto, quindi non lasciare niente a caso, costruire ragazzi e giovani promettenti qui nel nostro territorio per poterli poi farli giocare in prima squadra. Certo, la squadra deve essere tutta la 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 squadra.